Questa è una cartuccia molto facile da rigenerare, è soltanto un contenitore di toner. Togli il tappo, a volte il tappo è incollato e bisogna fare un foro nella cartuccia. Pulisci la cartuccia da tutto il toner vecchio rimasto. Se presente, svuota o sostituisci il contenitore del toner di scarto. Assicurati che l'apertura del toner sia chiusa. Riempi la cartuccia con toner specifico per la cartuccia a chiocere che stai riempendo. reinstalla il tappo e controlla che non ci siano perdite. I nuovi tipi di cartucce toner della chiocera spesso hanno un chip. Rimuovi il vecchio chip. Il circuito del chip è stampato nell'etichetta. Questo chip deve essere rimpiazzato ogni volta che riempi la cartuccia. Installa il nuovo chip. Se vuoi, è possibile sigillare la cartuccia con del nastro adesivo. E il lavoro è terminato. Grazie per la visione!